Abbiamo il piacere di ospitare il professor Pasquale Colamartino, che è il direttore del centro regionale sangue. Parliamo, professor Colamartino, di una speranza che per i malati di Covid-19, ma poi ci dirà anche quali sono le prospettive, arriva dal plasma, dal plasma iperimmune. Ora, sia da Pavia, dal San Matteo di Pavia, arrivano studi, chiaramente siamo ancora in una fase, diciamo così, la definiamo embrionale, insomma, siamo ancora a livello preliminare, però i primi risultati stanno arrivando e sono positivi. Innanzitutto, buongiorno professor Colamartino. Buongiorno a lei. E' così? Possiamo nutrire ottimismo, fiducia rispetto al plasma? Dunque, come premessa, è buona regola in ambito scientifico comunicare i risultati delle ricerche quando sono stati pubblicati e sono stati vagliati dalla comunità scientifica. E quindi, chiaramente, siamo di fronte soltanto a risultati preliminari. Abbiamo bisogno che questi studi vengano anche completati in un'ottica di carattere nazionale, perché abbiamo bisogno di una casistica sufficiente per essere, per affermare che la terapia col plasma iperimmune sia efficace e sia sicura. Perché anche questo è un aspetto importante. I dati preliminari che sono stati presentati ieri in conferenza stampa e che sono relativi allo studio di Pavia sono effettivamente incoraggianti. E quindi, diciamo, questi risultati preliminari stanno incoraggiando tutti i ricercatori italiani, compreso appunto i ricercatori abruzzesi, che si stanno impegnando in questa ricerca ad andare avanti. Quindi, anche perché, come lei accennava inizialmente, poi se i dati si confermeranno, poi ci sono delle ulteriori prospettive che si aprono. L'utilizzo del plasma prelevato a pazienti guariti non è una novità. È un approccio, come dire, una terapia di prima linea che si è già sperimentata nel corso di precedenti pandemie, con qualche buon risultato. E quindi, anche in questo caso, quando si è manifestata la pandemia dal nuovo coronavirus, è evidente che la prima cosa che si è cercato di fare è di capire se il plasma dei pazienti guariti poteva essere utile a curare altri pazienti. Come dicevo, è una terapia di prima linea, perché in genere sono terapie che si mettono in piedi, si cerca di metterle in piedi, quando non hai altro a disposizione, perché non hai avuto il tempo di sperimentare i farmaci. Ha anticipato la mia seconda domanda, perché io le avrei chiesto, ecco, si parla di plasma da pazienti guariti a beneficio di pazienti che, insomma, sono in condizioni piuttosto severe, diciamo così. Si parla anche di una discesa della mortalità dal 15 al 6%, anche se chiaramente parliamo di dati sperimentali, no? Sì. Infatti questo è il primo criterio che serve per verificare l'efficacia di una terapia, che quindi è la riduzione della mortalità, quindi i dati preliminari di Pavia ci parlano di una riduzione della mortalità del 6%, quindi da un numero di pazienti, da un decesso ogni 6 pazienti, siamo passati a un decesso ogni 16 pazienti nella loro casistica. Quindi questo è sicuramente un risultato incoraggiante. Quello che va spiegato bene è che la terapia col plasma non è il plasma di per sé che può garantire un miglioramento dei pazienti, ma sono gli anticorpi specifici neutralizzanti, cioè nel plasma appunto dei pazienti guariti si presuppone che ci siano questi anticorpi neutralizzanti specifici che vanno ad attaccare il virus e impediscono al virus di entrare nella cellula, per quello si chiamano neutralizzanti, e quindi di infettare la cellula e poi di generare questa infezione. Quindi il razionale di questi studi è proprio basato sulla presenza degli anticorpi neutralizzanti e la ricerca e soprattutto la titolazione degli anticorpi neutralizzanti è uno proprio degli snodi fondamentali di questa sperimentazione, perché noi dobbiamo comparare gli eventuali risultati clinici alla presenza e al titolo di questi anticorpi. Il titolo vuol dire che c'è una concentrazione nel plasma dei pazienti guariti sufficiente per dare dei risultati clinici. Quindi questo è un aspetto importante e soprattutto è anche importante capire quando somministrare il plasma ai pazienti, perché da anche queste prime evidenze abbiamo visto che la terapia col plasma iperimmune è più efficace nelle fasi precoci della malattia. Quindi prima riusciamo a somministrarlo e meglio è. Quindi questo è un aspetto anche importante che deve emergere da queste ricerche. Gli altri aspetti riguardano la riduzione del miglioramento dei parametri respiratori e anche l'effetto su quella che si chiama la tempesta infiammatoria. Cioè questa è una malattia che genera una risposta infiammatoria esacerbata da parte dei pazienti e anche questa risposta infiammatoria è anche la causa del danno al tessuto polmonare e a altri tessuti. Perché abbiamo visto che la pandemia, la malattia da Covid non colpisce solo i polmoni, ma colpisce anche il cuore e altri tessuti, quindi insomma anche in questo senso devono essere dimostrate, deve essere dimostrata l'efficacia. Ecco, la situazione invece relativa all'Abruzzo, alla nostra regione, ci sono ospedali che hanno avuto accesso alla sperimentazione? Si è parlato di altri? In Abruzzo c'è in corso una sperimentazione, uno studio multicentrico regionale a cui hanno partecipato tutti i servizi trasfusionali della regione Abruzzo e le principali unità operative che hanno in gestione in questo momento i pazienti Covid positivi. Quindi c'è stata una risposta entusiasmante, quindi c'è molta fiducia in questa prospettiva. Adesso siamo nella fase in cui stiamo reclutando i donatori, quindi i pazienti guariti, e stiamo cominciando a caratterizzarli perché, come le dicevo, prima di fargli donare il plasma è necessario capire se hanno una concentrazione nel loro plasma di anticorpi neutralizzanti che può essere utile per trattare i pazienti. E quindi siamo in questa fase qui. È importante, chiaramente approfitto anche della sua trasmissione, se posso, per mandare un messaggio a tutti i pazienti guariti, abruzzesi, perché quello del reclutamento dei potenziali donatori è uno dei passaggi fondamentali, perché senza di loro questa sperimentazione non può andare avanti. Quindi tutti quelli che sono guariti, guariti vuol dire che non hanno sintomi da almeno 14 giorni e che hanno fatto due tamponi orofaringei consecutivi negativi. Quindi queste sono le persone che... non basta che siano clinicamente guariti, devono essere guariti avendo fatto tamponi negativi per due volte. Due tamponi consecutivi negativi, perché poi delle volte può capitare che il primo viene negativo, il secondo dubbio, quindi devono essere due tamponi consecutivi negativi. La Regione ci ha già fornito, e di questo ringrazio proprio il Dipartimento della Salute, ci ha fornito un primo elenco di persone che hanno queste caratteristiche, li stiamo contattando per chiedere la loro disponibilità, ma anche altri che volontariamente si vogliono candidare per questa possibilità possono contattare i centri trasfusionali. E quindi questi pazienti guariti, quelli che saranno ritenuti idonei ovviamente, saranno sottoposti a un prelievo del loro plasma con delle apparecchiature che si chiamano separatori cellulari, verrà prelevata una quantità standard di 600 millilitri di plasma che verrà divisa in due aliquote congelata e sarà poi a disposizione dei clinici che la potranno infondere. Ovviamente in tutta sicurezza, quindi non devono tenere nulla, insomma, no? Assolutamente sì, perché il protocollo prevede tutta una serie di parametri stringenti di sicurezza per chi dona il proprio plasma e per chi lo deve ricevere, perché la sicurezza non riguarda solo la concentrazione degli anticorpi neutralizzanti, ma noi faremo tutti i test che tradizionalmente si fanno quando si dona il sangue per evitare la trasmissione di altre malattie trasmissibili come le epatiti e altre cose. Quindi c'è proprio un protocollo fortemente garantito per chi dona e che per chi riceve. Ecco, alla luce della sua lunga esperienza, volevo chiederle sulla tempistica, cioè adesso questi risultati, come dice lei, dovranno per avere una valenza, dovranno essere chiaramente ancora più consistenti e poi dovranno essere pubblicati, no? Quindi poi quando si potrebbe passare, diciamo, alla fase operativa vera e propria? Adesso ci sono una serie di prospettive che noi abbiamo di fronte. Faccio presente che proprio recentissimamente l'Agenzia Italiana per il Farmaco e l'Istituto Superiore di Sanità hanno proprio per ulteriormente approfondire il tema dell'efficacia e della sicurezza di questa terapia hanno lanciato uno studio nazionale multicentrico con una costruzione ancora più robusta di questi primi studi preliminari. Quindi sono studi randomizzati che scioglieranno ogni tipo di possibile riserva sull'efficacia e sicurezza di queste terapie ed è uno studio che partirà anche questo a brevissimo e quindi sicuramente all'inizio, alla fine dell'estate, noi avremo i risultati definitivi sia di questi primi studi che di questo studio nazionale e quindi potremo poi a quel punto affermare con certezza che il plasma è efficace e per quale tipo di pazienti può essere efficace, perché anche questo è importante dirlo, non è che è efficace per tutte le tipologie di pazienti. E poi si apriranno nuove prospettive, perché se effettivamente si dimostra che gli anticorpi neutralizzanti dei pazienti guariti sono efficaci, allora ci sarà una seconda fase che sarà quella della produzione industriale di immunoglobuline specifiche che potranno essere utilizzate a questo punto non solo in terapia, ma anche addirittura in prevenzione, cioè per gestire quelli che sono i soggetti che hanno avuto contatti a rischio. Questo vale, e lo facciamo anche adesso, per esempio utilizzando le immunoglobuline antitetano, quindi il razionale sarà quello non solo della terapia, ma anche quello della prevenzione, fino a che ovviamente non arriverà il vaccino e a quel punto ci sarà auspicabilmente una immunizzazione di tutta la popolazione. Quindi capite bene che le prospettive sono molto interessanti, importanti, e quindi siamo tutti ansiosi di arrivare alla fine delle sperimentazioni. Adesso è vero che la curva epidemiologica è in discesa, oggi in Abruzzo abbiamo registrato ancora otto casi, ma comunque rispetto a un numero consistente di tamponi, però è chiaro che dopo l'estate non sappiamo quello che renderemo incontro, per l'autunno, quindi bisogna prepararsi. Esattamente, questo è un concetto molto molto importante, la ringrazio di aver sottolineato. Raccogliere prasmi per immune non serve solo per gestire i pazienti attuali, che grazie a Dio si stanno riducendo, ma serve per essere pronti, per non essere colti di sorpresa, quando, speriamo di no, ce lo auguriamo tutti, ma ci potrà essere una ripresa dell'attività della pandemia nel periodo autunnale, e quindi lì dobbiamo essere tutti pronti. Quindi tenete conto che il plasma iperimmune, una volta raccolto e trattato, può essere congelato e conservato per almeno due anni. quindi noi siamo pronti a quel punto a affrontare qualunque tipo di eminenza.